Salve a tutti, sono Lorenzo di Parentesi Storiche, curatore della sezione di Storia Antica e sono qui per consigliare una lettura molto interessante riguardo, diciamo, uno degli aspetti più importanti della storia dell'impero romano, ossia i barbari. Tutti abbiamo sentito parlare nella nostra formazione scolastica, sin dalle elementari, eccetera, delle invasioni barbariche, di questi popoli, rozzi, aggressivi, violenti, che avrebbero giocato un ruolo fondamentale nella chiusura dell'impero romano occidente. Ovviamente si sa, la realtà è molto più sfaccettata, è molto più complessa, ragione per cui è davvero importante approfondire queste figure. Io vi consiglio un testo di un grandissimo storico a riguardo, che è Alessandro Barbero, che noi abbiamo anche intervistato, quindi potete andare sul nostro sito a leggere l'intervista proprio al grande Barbero, e si intitola Barbari. Il nome è semplice, Barbari, immigrati, profughi, deportati nell'impero romano. Sin da subito potete capire che Barbero cerca di dare una luce diversa alla figura del Barbero, quindi non solo il conquistatore tipo Attila o Alarico, insomma, i grandi guerrieri, ma tutta la sfaccettatura, anche umana, che si nasconde tra la parola Barbaro stesso. Quindi, appunto, immigrati, perché erano in primis popolazioni che si recavano nell'impero per assimilarsi ad esso, non tanto per distruggere profughi, perché scappavano da altre guerre. Appunto, gli uni spinsero in avanti verso l'impero tutta una serie di popolazioni, i burgundi, i franchi, i goti stessi, quindi scappavano dalla guerra e per scappare finirono a combatterne un'altra contro i Romani. Deportati nell'impero romano? Certo, i Romani, quando conquistavano una popolazione, una regione, prendevano gli abitanti e li portavano da qualche altra parte, a volte anche come punizione per indebolire il regno locale, la compagine locale, li prendevano, li portavano in un'altra regione dove venivano insediati o venivano comunque reclutati a loro volta nell'esercito. Questo testo quindi approfondisce a tutto tondo la figura del Barbaro. Testo, vi ricordo, edito da Edizione della Terza Economica, con il bordo giallo, di cui ne ho una sfilza, sempre molto belli anche da tenere in libreria tutti insieme, fanno il loro effetto, quindi ve lo consiglio vivamente. Per tutti gli appassionati della storia antica è una lettura davvero illuminante perché poi getta anche un ponte, ovviamente, mutatis mutandis, con quella che è l'attuale situazione delle migrazioni e dei profughi del Terzo Millennio. È una lettura comunque molto interessante. Per questa piccola puntata di consigli di lettura è tutto e ci vediamo sul nostro blog.